No, no, l'ha finito. No, è vero. Ho visto uno che è sceso. E non so che si può continuare. Ma si continua. Ah no, perché lei è chi viene da Pompei. Prima l'ha detto. Si l'ha detto. Si viene da Pompei. Ma non è qua. 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 ma non è qua.